Ah, merda. Ehi, qualcuno soffre di vertigini? Eh, non più. Amo l'altitudine. Cazzo se l'amo. Presto, la linea arriva fino al ponte. E questa è la nostra fermata, avanti! Wow! Wow! Perché non avrete già tutto il corpo! Pronti! Per stare appesi a un cavo mentre ti spanno da tosse, è che l'automoporto popolarissimo. Campionato di fanni il tuo. Ok, liberiamo il corpo! E questo è l'ultimo. Almeno per ora. Sai, sono più preoccupato della stabilità di questo ponte che di qualche arrenato dal grilletto facile. Già, l'aspetto non è incoraggiante. Ehi, diamoci una mossa! Se perdiamo la nave, perdiamo tutto ciò che abbiamo. Cola, Sovereign! Cola, Sovereign! Rispondete, Sovereign! Merda, i sistemi di comunicazione sono fuori uso e non vedo un cazzo! Dobbiamo arrivare al centro del ponte! Sì, ma prima dobbiamo superare quella! Ci penserà il mio fascino straordinario! Oh, forse dovrei prestarti un po' del mio! Ehi, ma sono io l'unico che si sente sottotiro qui? Movimenti, in cima alla barricata! State allerta! Ehi là, c'è nessuno! Toc, toc! Vogliamo solo passare? Abbiamo solo bisogno di una mano per tornare alla nostra... Merda! Tanti saluti alla diplomazia! Che ti aspetti da quelle merde di arenati? Avanti, diamoci da fare! Ehi! Non sono arenati! Sono locuste! Grandioso! Guarda chi si rivede! Beh, abbiamo allagato il loro tunnel! Ehi! Aprono il fuoco da quella cabina! No, anche in cima alla barricata! Tieni il resto, bestiacro! Ecco il pedaccio, scrompo! E' finito! Sì, il carisma funziona sempre! Mi accercherò sinistra! E' finito! E' l'ora, baby! Degli stronzi davvero creativi, no? Usano vecchi lancer per costruire le torrette. Complimenti. Tutti cercano di recuperare qualcosa, persino i vermi. Già, queste armi possono fermare un tir. Sempre che il rinculo non ti sfoghi una spalla. Avri faro! Boomer! La famiglia di vermi al gran complesso! Sei mancato! Sei sempre più brutto! Gravata! Mi piace come hanno sistemato questo punto. Look informale squallido. Stiamo parlando di vermi, Bird. Lo squallore è normale per loro? No. Quando erano sottoterra, erano organizzati. Ora invece sembrano diventati quasi... dei selvaggi. Selvaggi, eh? E questo rende più semplice sconfiggerli? Rottato! Basta da che puoi dire. Rottato! Rottato! Rattato! di spondamento, baby. Ticker! Credete di fermare Coltrane? Ben solo a te di dire che sono provocata per chi ha piaciuto. Aiutatemi, vi prego! Homer! Ahahah, che fassos! Non metto farai! Vieni qua, battle! C'nante! No, no, no. No, no, no. Sì, Sam non è esattamente la tipa da passerella. Quando tutto questo sarà finito, Bird, ti taglio i gioielli di famiglia. Carmen, riesci a vedere qualcosa? Un momento. Sam, vediamo la nave! Sta in piano! Sì, Sam, vediamo la nave! 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 Riesci a uccidere quella cosa da dove sei? Beh, da un punto di vista puramente scientifico, credo che dovremmo fargli saltare le cervelle. Di a Bird di inventarsi qualcosa! Nessun problema, ho già ucciso dei leviatani lucifosi. A Vectes, sulla Darsena, ti ho salvato il culo. Ne hai ucciso uno molto più. Allora? E hai quasi distrutto il porto. Quello è grosso il doppio. Allora qual è il tuo piano? Assillarlo fino alla morte? Aspetta, tu potresti riuscirci. Signorine, in un modo o nell'altro dobbiamo aiutare la Sovereign. O è fottuta! E noi con lei! Merda, le torresce sono andate! Se qualcuno ha un piano B, è il momento di tirarlo fuori. Ok, questi vermi devono avere degli esplosivi. Tu trovali, io li faccio esplodere. Ehi, dovrebbe funzionare. Troviamo altri tir. Sganciamo, plak, bacio, fine della storia. Sì, se non ci uccidono prima. Tutto non ho vero. Portai! State giù! Verdi, uno di questi ci farebbe comodo. D'altro, lo mortaio non farebbe altro che farlo incazzare lì. Ok, neutralizziamo quei mortai e troviamo i Ticker. Ehi, abbiamo riparato i Ticker! Perfetto! Perfetto! Ehi, che cazzo è quella? Una fiatta di locusta galleggiante? Oh, una carrozza all'umana piena di armi! Eccolo continuato! Oh oh, quello lì è mio! Wow! Spettacolare, baby! Ora posso avere i miei ticker, per favore? Ci stiamo provando, ok? Ah ah! Grazie, bestiaccia! Beh, ci sono altre luci così in arrivo. Le volete ancora, maledetti? Ehi! 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 Tornare! Oh sì, ecco i tuoi ticker. Ok, Verne, ora di stoppirci! Sì, grandioso, ok. Se colpiamo il punto esatto, buonanotte alle viatane. Riescono a farlo venire sotto di noi? Marcus, mentre voi facevate una pausa, il genietto biondo ha avuto un'idea. Ma quanto vi serve? Se attirate quella bestia a poppa, si cerca un bel mal di testa. Gli animali mi adorano. Resta in attesa, Colt. Il ponte non resisterà ancora al mondo. Già, il tuo mediatano non aiuta. E vai! Eccoli! Il ponte è stato. Arrivareci! Si vuole sfruttare! Dietro di noi! Colt, hai un mediatano impiazzato in posizione. Pronto? Questa non la fermi. Eh, faccio un minuto! Via verde che deve far saltare in aria. Sì, bombe scacciate! Eccetera, eccetera. Ehi, pensavo che avreste apprezzato una dose di sana violenza verminosa. Ehi, divertente! Potremmo rieplodere tutta la nave, genio! Non serve! Non serve! Devo già morti! Suppongo che tu voglia sentirti dire che ti ho sempre amato! Ma io no! Dico sul serio, io proprio no! Dico sul serio, ti ho vittato! Grazie a tutti.